Ottava commemorazione, monumento all'abbraccio per i caduti delle forze di polizia qui a Piazza della Libertà e qui davanti a me lo scultore, collega Giorgio Bisanti. Giorgio. Buongiorno a tutti, siamo molto contento di questa commemorazione, è l'ottavo anno che facciamo questa commemorazione di questo monumento che fortemente è stato voluto da Argos, Associazione Forze di Polizia. Devo dire che ogni anno allo squillare delle trombe del silenzio mi commuovo sempre, perché al di là del momento penso ai tanti colleghi che per la nostra libertà hanno perso la vita, penso a loro che non ci sono più, penso alle loro famiglie, penso ai figli che purtroppo soffrono della mancanza del padre e della mamma. Grazie a Argos che ha voluto fortemente questa scultura, abbiamo lottato con le unghie e con i denti per poterla realizzare e per poterla collocare qui al centro di Roma esattamente tra Piazza del Popolo e San Piero. Sono veramente contento di tutto ciò e devo ricordare Fabrizio Locuccio che ha voluto fortemente questa scultura. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.